È un momento difficile per i lavoratori perché ci troviamo con commesse in portafoglio, ma con una burocrazia che ci rallenta e chiediamo solo che venga fatta chiarezza quanto prima. Siamo degli imprenditori sani, credevamo in questo progetto, credevamo nel fronte del mare, siamo certi dell'operato degli uffici comunali, in particolare l'ufficio urbanistica, per cui vogliamo che quanto prima si discuta la vertenza per capire il futuro anche del nostro personale. Il personale storico che sta con noi da anni, è la seconda generazione e che teniamo particolarmente a cuore. Si parla di tempi che potrebbero allungarsi anche addirittura a settembre, ottobre? Sì, in effetti non seguo i tempi legali perché mi occupo di altro, sono più preso dalle produzioni generalmente, però c'è questo rischio trattandosi tra poco, c'è il feriale, per cui c'è una problematica di tempi che potrebbe traslare la discussione del merito a settembre addirittura. Intanto i lavoratori restano senza stipendi? Guardi, è da ormai giorni che giro i vari cantieri per cercare soluzioni anche temporali, ma non ci sono prospettive al momento. Anche in confronto con i sindacati? Sì, li ho visti giovedì, li vedrò oggi certamente, anche con la speranza di salvare qualche unità.